Si tratta di un vis-à-vis tra presente e passato, tra donne del mondo antico e donne moderne, per mostrare come nel passaggio di secoli, di millenni e di culture, in fondo la donna sia sempre stata il thread union tra i popoli. E' naturalmente anche un modo per raccontare come molte donne, soprattutto donne contemporanee, siano riuscite ad affermarsi nelle loro professioni, nelle loro attività, attraverso l'ostinazione e la passione che ci caratterizza. E tra queste naturalmente è presente anche una giovane protagonista gelese, Angela Catania, che sta frequentando un dottorato a Sheffield e dentro al documentario stesso viene raccontata una gela molto diversa dallo stereotipo che la vede spesso protagonista degli episodi di cronaca. Il mio contributo in questa manifestazione dedicata al tema della donna e legalità fa riferimento al recente rimpadro di un reperto archeologico trafugato da Morgantina, il sito archeologico poco distante da Gela, che negli anni 70 è stato saccheggiato dai tombaroli. Durante questi saccheggi è stato portato alla luce, è disperso nel mercato antiquario, il reperto noto come Tessa di Ade, una testa maschile di divinità raffigurante proprio il dio degli inferi. Questo reperto di recente, lo scorso gennaio, è rientrato in Italia e il suo rientro è un'affermazione della legalità contro i crimini, contro il patrimonio archeologico. La storia si ricongiunge al tema di donne e legalità perché il rimpadro del reperto è stato reso possibile grazie all'attività di ricerca di due archeologhe, due donne. Io con un mio studio dedicato a Morgantina e l'archeologa Lucia Ferruzza con uno studio dedicato alla Tessa di Ade quando si trova esposta negli Stati Uniti nella collezione del Polghetti Museum di Malibu. La nostra scuola, come sempre, è sensibile a tutti gli avvenimenti importanti che possono riguardare il nostro territorio, soprattutto in questo momento è questo tema che riguarda la violenza delle donne che appunto è a livello non soltanto italiano ma mondiale e quindi non hanno sicuramente potuto mancare questo appuntamento per organizzare oppure, come è capitato anche altre volte, cogliere l'invito di professionisti e di gente che si occupa da diverso tempo per questo, per sensibilizzare sempre il problema, mettere in risalto quello che succede. Quindi il rispetto alla donna e rendo conto di tutte le tematiche che riguardano questo importante problema. Oggi il nostro istituto ha voluto porre in atto un progetto che fa parte dell'ampliamento dell'offerta formativa del nostro istituto, donne e legalità. Un tema che sta molto a cuore a tutto il corpo docente, a tutti i nostri ragazzi perché intende affermare appunto quello che è il concetto di legalità e urlare il nostro diciamo disappunto contro la violenza sulle donne. Verrà proiettato un film documentario, Taguna Keia, cose di donne, che è stato diciamo prodotto dal regista Lorenzo Daniele e dalla moglie Alessandra Cilio che ha tanti successi e tanti premi a Mietuto non solo in ambito locale ma anche in ambito internazionale.